Il CNR sanitario per ricostruire una rete di medicina territoriale efficiente, una rete di case e ospedali di comunità e centrali operative. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, Alessandro Stecco, che ha aggiunto adesso c'è l'approvazione della proposta di deliberazione sugli investimenti in edilizia sanitaria per la realizzazione di nuovi ospedali che ora però dovrà passare al vaglio del Consiglio regionale. Sono sei le nuove strutture più la conferma per due ospedali già in programma finanziate con un investimento complessivo di 1,28 miliardi da parte dell'Inail. Le due che riceveranno di più saranno Cuneo e Alessandria con rispettivamente 310 e 300 milioni di euro, poi Torino 185 insieme a Savigliano e Saluzzo Fossano con 195 milioni, Vercelli 155 e Ivrea 140. Per l'assessore alla sanità Luigi Icardi la seduta di Commissione è stata l'occasione per riassumere alcuni punti. L'Inail metterà 1,28 miliardi per 6 nuove ospedali e questi fondi sono già stati approvati dal Governo e sono tutti a disposizione del Piemonte. Poi Icardi ha aggiunto alcune strutture sono vecchie e molto dispendiose dal punto di vista energetico. Con i nuovi ospedali contiamo di attenere risparmi che ridurranno l'impatto di questa spesa e probabilmente anche avere delle economie. L'accordo con Inail prevede che la Regione metta a disposizione i terreni e anticipi le spese per la progettazione che verranno poi rimborsate sempre da Inail. Mentre la Regione corrisponderà all'istituto un canone annuo a valere sul capitale investito. In Commissione Sanità della Regione è stato approvato anche il piano di riorganizzazione dell'ASL Alessandrina. Il piano prevede nove case di comunità, tre ospedali di comunità e quattro centrali operative e territoriali. Da notare che la città di Valenza avrà una nuova struttura e non sarà acquisito o ristrutturato il Mauriziano, operazione che avrebbe avuto un costo troppo alto, 15 milioni di euro circa. La scelta ricadrà invece su un edificio di nuova costruzione in un'area differente, non troppo distante, in zona circonvalazione. Su questa operazione d'accordo molte forze politiche, disaccordo invece di PD e in particolare del consigliere regionale Domenico Ravetti che invece avrebbe voluto ripescaggio del Mauriziano.